ciao sono federica oggi vi mostro questo ampio bilocale in affitto all'interno della graziosa villetta è un bilocale manzardato con un'ampia zona giorno come vedete completamente ristrutturato e ammobiliato ci troviamo nel quartiere città giardino negli interni di via guidoreni è una zona molto servita ma al tempo stesso tranquilla e immersa nel verde se anche tu stai cercando una casa in affitto e questa soluzione ti può piacere chiamami a